ciao ragazzi seconda parte seconda parte terza linea e terza uscita se non sbaglio anche qui audio automatico naturalmente vediamo se è questa no no è la seconda ancora e per seguita per seguita dove è la terza uscita ho fatto anche la terza uscita che era un pochettino più bella tutta fatta in flash ma basta queste pagine web che fai impiegare per un cdrom come avevo fatto non lo trovo non fa niente passiamo direttamente a radio galattica questo è radio galattica 2007 mi sembra vediamo se è vero radio galattica 2007 questo già nel 2007 con flash programma di macromedia del 2006 questo flash 6 vediamo cosa facevano nel 2007 con flash 6 avvio automatico che non parte perché windows merda lo ha disibilitato qua in questo caso vabbè fate conto che non l'ho aperto vabbè qua c'è stato un errore mi sa perché allora dov'era dov'è che si faceva a partire poca miseria posso vai a trovarlo eseguibile poca miseria avvio il menu principale che si chiama ma no avvio il menu di avvio senza questo cos'era questo però serve flash per aprirlo ma forche miseria perché non ho installato flash su windows visto che l'ho fatto tutto con flash vabbè si può visualizzare in troppa giunga risoluzione problemi ho fatto un pannello qual'è il problema riscontrato e poi tu cliccavano di queste soltanto tre possibilità tipo la riproduzione delle tracce audio salta o si blocca qua propone una soluzione qua si propone anche di installare un programma insomma una cosa essenziale proprio che non funziona con tutto il giocati in buba fantastico è nulla musica on e musica off questo qua è molto importante puntate puntate di questa radio che abbiamo fatto sono molto creativo no allora ogni estate faccio un sacco di roba grafica audio mixer dj di tutto mi do da fare tantissimo poi con così le vacanze non le faccio cosa ho fatto nel 2006 la radio la radio con i miei amici l'ho fatto anche nel 2008 lo faccio anche quest'anno bene questo qua era il primo cd di radiografica con tutti ci nasce ancora il computerazzo bellissimo qua la notte a me sono ricordi che mi piacciono un sacco allora, poi vediamo ok, visto c'è poco tempo aspetta a proposito avevo fatto partire il timer? no, ma non ho neanche fatto partire non avevo neanche fatto partire il timer inizialmente sono passati secondo me 4 minuti se il tempo non mi inganna invece passiamo a radiogalattica terza no aspetta, 2008 non ce li sto capendo più ah giusto, radiogalattica di 2008 il cd il cd non ho potuto fare perchè sono rimasto conto i cd, sono rimasto solo dei dvd ovvero uno spreco fare il dvd no aspetta, usavo il dvd allora perchè non l'avevo fatto? mi ricordo nè per qualche motivo non ho mai fatto una copia per me ho fatto 4 o 5 copie ma per me poi mi sono dimenticato di farla sono troppo altruista ho fatto miseria un attimo eccomi eccomi questa radiogalattica 2008 è uscita in 3 versioni diverse versione plus con la copertina color sondaltonico con un'introduzione quando si vede un cast scommetto versione dvd che qua non ce l'ho perchè è andata a ruba e non mi sono rimasti delle copie anche quello con il copanetto tutto qua è molto bello e versione base con un cd puntata 320k al secondo e basta che non avevo però i video quando mettiamo le canzoni facciamo un video dove ci picchiamo ci picchiamo facciamo dei casini distruggiamo tutto e qua non c'erano perchè è la versione base vediamo la versione plus allora ce l'ho salvata sull'hard disk versione plus partiva edizioni monster edizioni monster fatto io anzichè edizioni monster ah dovete arrivare qua già non chiede più l'unità oh finalmente qui è già uno scatto qua ho superato me stesso è stata la mia ultima creazione ho saltato un paio di cose ho fatto una campana con le mie creazioni digitali alcune cose le ho tirate via vediamo qua l'innovazione vera allora radio galattica estate 2008 centro di controllo di radio galattica da qui potrete installare plugin mancanti tipo puntato di radio galattica passa l'interfaccia classica di radio galattica vedete poi ci sono anche degli effetti vari quindi vedete prendo tutto circa circa sì allora sala giochi vedi una volta messi qua giochi radio galattica con queste state qua mi sono state 2008 mi sono andato da fare ho fatto addirittura uno due tre tre giochi no in realtà ne ho fatto solo due poi perchè questo qua al fine non l'ho mai fatto questo è incompleto e checca e questo qua l'ho fatto nel 2006 2005 invece questo e questo li ho fatti va bene vediamo un po' sala giochi vedete qua ho voluto fare l'imitazione del mac c'è la barra di osx 10.5 con le icone kill bug vedi c'è prendi qua si ingrandisce fa vedere dei dati statistiche demenza violenza ritorna moro racing bellissimo non ho scritto mare no racing ma che cazzo siamo già passati 10 minuti possibile ma quanto siamo non lo so se domando alla terza parte a dopo